Tra qualche giorno è il compleanno di un mio cugino carissimo Sì E lui è straappassionato di una canzone degli anni 60 e volevo regalargliela Ce l'avete? Devo essere più preciso? Eh sì, per esempio il titolo potrebbe essere utile Mi agnallo Come? Achille mi agnallo Mi agnallo Mi agnallo Ma lo sai che io lo trovo estremamente eccitante Un uomo che lavora nel cantiere Eh te credo Legge poesie Eh no Balla il flamenco Buongiorno Topolillo Ciao Vago Porcorella E allora bambini lo lascio a voi Topolillo Calcola e quando l'aria è molto terza vedi anche i fiordi Da Grecia Sì In fondo tu sei l'uomo E tu una splendida donna Cos'è un avance? E non lo so Siamo alla terza cena Stasera o si tromba o ciao Mi sono un schermaccio Era oltre il passerotto pieno di felicità Sette bebette Sette bebette Sette bebette Fa rima ma non esiste Fa rima ma non esiste Paolino Ma sapevate la cosa di Elton John No? Che è un androide Non esiste Elton John Chi te l'ha detto? Putin E poi sfuma molto piano No non ce l'ho Grazie lo stesso Prego Grazie a tutti